Salve a tutti, benvenuti, vedremo oggi come è nata la BDO per terminare questa storia delle freccette arrivare fino ai giorni d'oggi, cioè alla PDC. Allora, la BDO è nata nel 1973 e portò un'innovazione molto importante, cioè il video, lo schermo diviso, cioè da una parte il bull e dall'altra il giocatore, quello che vediamo oggi in PDC. Portò questa innovazione che chiaramente diede un'enorme visibilità, perché chiaramente prima del 1973 non era così, perché se vi ricordate venivano trasmesse anche prima in televisione, ma o si vedeva il giocatore o si vedeva il bersaglio. Nel 1973, con l'avvenuta della BDO, praticamente si vedeva questo video diviso e le partite chiaramente erano più belle da vedere. Questo cosa fece? Fece che praticamente portò le freccette in tutto il mondo e portò chiaramente anche sponsor e sempre più televisioni che volevano trasmettere le freccette, chiaramente, perché è tutto collegato. I primi giocatori che divennero praticamente famosi, celebri in tutto il mondo furono tipo Eric Bristol, il grande Eric Bristol, che fu importante sia come grande giocatore sia come imprenditore delle freccette, perché lui faceva parte dell'organizzazione della PDC attivamente e quindi se la PDC è quella che oggi è senza ombra di dubbio anche in merito del signor Eric Bristol, oltre ad essere stato un grandissimo giocatore ed essere stato persino quello che ha portato in auge il grande Phil Taylor. Sappiamo che Phil Taylor abita tuttora a Stretton, dove c'era il locale dove giocavano a freccette famoso di Eric Bristol. La moglie di Phil Taylor regalò al compleanno a Phil Taylor le freccette perché andasse ad allenarsi. Phil Taylor cominciò ad andare a giocare, lui aveva già giocato, ma questa è un'altra storia, ve la racconterò magari in un altro video parlando della storia di Phil Taylor. Pese a queste frecce andò a giocare, era bravissimo come tutti noi possiamo, insomma 16 volte campione del mondo ragazzi, non è che lo diventi se non sei bravo o sei bravo o se non cippa insomma. Eric Bristol lo vide e lo sponsorizzò perché se non sarebbe potuto diventare così famosa non avrebbe avuto questa grande fortuna di essere magari uno dei più grandi giocatori del mondo perché se avesse continuato a fare porcellane, visto che lavoravo in una fabbrica di porcellane, non sono Arbagiano, ma questa è un'altra storia, non aveva i soldi per permettersi di fare questo sport a livello professionistico. Quindi fu lui, Eric Bristol, a far sì che Phil Taylor sia insomma l'ha portato alla nostra visibilità, cosa non da poco perché senza Phil Taylor probabilmente io mi ricorderò sempre che il primo giocatore che ho visto in vita mia a giocare è stato proprio Phil Taylor quindi senza dubbio un gran giocatore è leggenda, non si può dire ah ma è più forte questo, più forte è questo, più forte è questo, più forte è Phil Taylor, è Phil Taylor. Comunque non perdiamoci, quindi c'era Eric Bristol, mi ha fatto questo piccolo cappello su Eric Bristol perché mi sembrava importante perché ne ha fatte veramente tante Eric Bristol per le freccette. Poi c'era Lanyton Rees John Lowe, John Lowe è il primo ad aver chiuso Nine Darters, cioè chiusura in nove in diretta televisiva se voi andate su YouTube a cercare John Lowe chiusura in nove, sì Nine Darters vedete che lui è stato il primo a farlo in diretta televisiva quindi San Bajon Lowe, San Bajon Lowe insomma. Poi Alan Evans che non l'ho mai visto, almeno non so quale sia magari questi giochi Wilson che me lo ricordo, Tony Brown, il grande Bobby George che era fighissimo una bellissima partita storica, se non l'avete mai vista andate a vedere Bobby George contro Eric Bristol la finale dell'ambassie, di cui adesso parlerò, una gran partita che vinse mi sembra Eric Bristol quindi grandissimo, vi consiglio di vedervi anche la finale tra Eric Bristol e Phil Taylor dove vinse Phil Taylor a pelo e poi Kate Deller, anche lui un grandissimo giocatore praticamente da qui questo campionato, l'Embassy World Championship divenne spaziale per la prima volta andò in televisione nel 75, ebbe tipo 30.000 membri e organizzò 800 tornei in un solo anno la BDO, quindi fu proprio una roba incredibile. Nel 76 venne fondata anche la World Arts Federation che è rappresentante di 15 nazioni, che è quella World Cup che vediamo oggi e anche la FIGF italiana insomma insieme è consorziata, se non mi viene il nome, alla World Arts Federation che c'è tuttora la VDF, che è quella che fa la World Cup insomma la World Professional Dark Championship che era organizzata dalla BDO veniva chiamato The Embassy perché era sponsorizzato dall'Imperial Tabacco che probabilmente avrà avuto una sigaretta che si chiamava così come, non so, Malboro o qualcosa dove lì sarà stato l'Embassy, non lo so. Comunque veniva sponsorizzata da questa Imperial Tabacco ma cosa è successo? Che nel 2003 il governo vietò la pubblicità ai tabacchi, come sappiamo che qua in Italia sono dappertutto e quindi dovete cambiare nome da The Embassy World Arts Championship è diventato The Lakeside World Arts Championship o Lakeside come lo conosciamo come oggi c'è tuttora questo torneo, insomma questo campionato, scusate il campionato del mondo. Chiaramente i giocatori della BDO non sono forti come quelli della PDC perché tutti i giocatori della BDO quando diventano forti passano in PDC per quale motivo? Perché in PDC ci sono più soldi ragazzi, questo è il succo. La BDO fa un lavoro enorme per tutti i giocatori che vogliono crescere secondo me e danno molta importanza a questa cosa e chiaramente quando poi diventano bravi forse non sanno gestire la parte professionale come poi vedremo fra poco. È successo un problema serio nella metà degli anni 80 in un programma televisivo della BBC che si chiamava Not The Nine O'Clock News, fece un brutto scherzo alla BDO perché prese in giro tutti i giocatori perché i giocatori mentre giocavano in diretta televisiva bevevano pesantemente, fumavano, bevevano, c'è roba che non era proprio carino da vedere che giochi, bevi, poi vabbè, insomma era una roba un po' così, diciamo c'è la verità, hanno fatto anche un po' bene, devo essere sincero perché se ti metti a bere birra mentre giochi, io so che molti amano bere la birra mentre giocano e dicono che aiuta ma io sono a stemio ragazzi e non bevo e credo anche che quando uno faccia uno sport non sarebbe il caso che bevesse, insomma anche per dare serietà alla cosa, secondo il mio punto di vista, ma questo è solo un punto di vista, io non ho niente di contrario con chi vuole bere ognuno fa come crede allora, fecero questa cosa, poi c'è anche un fecero anche un video dove prendevano in giro praticamente i giocatori per fare 180, c'è un video su internet mi pare dove non riuscivano a beccare niente, bevevano la birra e beccavano 180 era presa in giro, però questo segnò la BDO pesantemente perché l'immagine delle fraccette andò a finire male, cari ragazzi, quindi per cui andare a finire male, cosa è successo? successo è che tutti gli sponsor mollarono la freccetta perché non era più, non era consumo questa cosa, no? del bere in tv, ci sono anche tanti video dove ci sono giocatori che erano pesantemente in bomba comunque vabbè, e anche le trasmissioni televisive vennero tolte l'unica cosa che rimaneva in televisione era l'ambassi o l'ambassi world championship e nient'altro, sì perché il live side è venuto nel 2003, quindi scusatemi e quindi fu un duro colpo e da qui, grazie a questo o per colpa di questo, nacque la PDC la Professional Dark Corporation nel 1992 praticamente 16 giocatori, professionisti, stufi che non si riuscisse più ad avere sponsor non si riuscisse più ad avere una presenza televisiva adeguata perché c'era solo quel campionato del mondo lì, dell'ambassi che andava in televisione, nient'altro, si stufarono e dicono noi facciamo ci togliamo dalla BDO, questi 16 giocatori, e fecero la PDC per dare serietà a questo gioco, per renderlo professionale questo è l'intento insomma da cui sono partiti perché dicevano che la BDO non cercava di spingere in avanti questa cosa e praticamente tutto era fermo questo poi alla fine diede ragione alla PDC perché la PDC di oggi ragazzi, cosa ne possiamo dire la BDO abbia anche un sacco di problemi perché chiaramente è difficile competere contro un colosso come la PDC che ha sicuramente molti più soldi ragazzi anche perché i premi, vediamo i premi quando uno vince sono molto alti e quindi ragazzi è una roba molto superiore a come era in BDO insomma vincere il campionato della BDO mi pare che vinci 50.000 sterline una roba del genere adesso non mi ricordo esattamente ma credo così sappiamo che se uno vince il campionato del mondo della PDC sono 250.000 sterline circa adesso più sterline o meno comunque l'ivario è enorme l'ivario è enorme e quindi tutti cercano di andare in PDC appena diventano bravi per quello poi la BDO non ha il livello della PDC fondamentalmente questo è tutto perché poi della PDC sappiamo tutto insomma lo vediamo tutt'oggi quello che è la BDO continua a sfornare i giocatori a arrivare i livelli aiuta anche il reparto femminile tutte queste cose che magari la PDC fino ad adesso non è che abbia aiutato il reparto femminile o che insomma quindi chiaramente per far crescere i giocatori sicuramente anche se oggi sono cambiate le cose perché la PDC ha cominciato a fare le cusculle le varie torneve le cose che prima non c'erano all'epoca quindi sicuramente la BDO serve per tante cose e la PDC serve per altre cose insomma secondo me possono benissimo coesistere insieme sotto un certo punto di vista per quanto riguarda l'Italia almeno da quello che ho cercato e da quello che ho sentito il primo Dark Club in Italia fu fondato nel 1983 a Treviso si chiamava Dark Club Treviso fu il primo poi da quello che mi hanno raccontato perché questo non l'ho trovato scritto da nessuna parte qui da noi a Trieste c'erano tipo 30 club dopo dopo ok perché nel 1984 è stata fondata la FEIGF quella con cui io gioco tuttora e di cui non posso dire assolutamente niente di male perché sicuramente è una bella federazione dall'altra parte poi c'è anche la federazione della FIGEST che insieme alla FIDERT la FIDERT è gioco soft freccette la FIGEST guarda il reparto still la FIGF invece fa solo still non si occupa diciamo della del soft anche se la Open Dart è consociata alla FIGF quindi c'è FIGF still la FIGEST still poi c'è in Italia l'Open Dart la FIDERT per il soft e anche poi c'è la FEDI che fa soft queste sono le tre le cinque federazioni italiane che ci sono detto questo abbiamo finito questa serie di puntate sulla storia delle freccette perché è importante anche sapere da dove si è arrivato tutto ciò penso che abbia insomma se vedete tutti i video molto interessante capire come tutto è nato come siamo arrivati a oggi perché mi sembra giusto anche perché poi non lo sentiamo dire niente di questo da nessuno e anch'io facendo questi video ho imparato un sacco di cose importanti interessanti cose che non avevo neanche idea quindi è stato molto carino sia per me che spero che per voi aver imparato un sacco di cose che vi ho raccontato che magari non avete mai cercato insomma detto questo vi ricordo sempre i due canali telegram bulldozer dark chat dove potete scrivere chiedere informazioni ci sono un gruppo di ragazzi con cui tutti insomma si chiedono si danno una mano è molto molto carino bulldozer dark chat scriviamo io e francesco per dirvi tutte le varie novità iscrivetevi a questo canale youtube a breve comincerò su twitch ma insomma un po' di fastidi se volete seguirmi su instagram mi fa piacere mi fa molto piacere detto questo vi saluto saluto a tutti grazie a tutti